credo che si sono operati dei cambiamenti nella società iraniana, nel mondo artistico, nel mondo intellettuale tra la gente, tra chi fruisce anche di questo prodotto culturale, dei cambiamenti tali che non c'è niente nessuno che potrà farli arretrare sul sedio. Ci possono essere dei periodi che sono sicuramente periodi più limitanti, possono lasciare delle tracce, non sarà come fino al 2005 in cui si è vissuta una stagione artistica particolare, però secondo me le prospettive per il futuro per l'Iran comunque non sono completamente buie. Io credo che quello che l'Iran si è conquistato nel campo culturale ed artistico in un qualche modo prosegue.